Vi do il benvenuto in questo nuovo video ragazzi e ragazzi e... Oddio, io ho ancora le lacrime agli occhi Oddio No, no, dai, dai, dai Devo assolutamente riprendere perché Io poi penso che succederà qualcosa di brutto, allora Oddio, speriamo di no davvero Dai, dai Andiamo da Lily C'è una voce praticamente strozzata Oddio, che succede? Il contatto è ristabilito Dov'è? Non ho una posizione precisa Un attimo, abbiamo il nucleo Il soggetto la raggiunge Eccellente Istruite il soggetto per ripristinare il nucleo Brutte notizie temo signore, ormai è tardi L'ambiente ha subito troppi danni Anche ripristinando il nucleo il collasso di Union è imminente Ebbene sia Abbiamo ancora lo stem Ricominceremo Ma ci serve il nucleo È troppo preziosa per noi Voglio la squadra medica per estrarre il nucleo Quanto ci vuole? Il tempo che serve a portarla al punto d'estrazione Sono vicini Ci vorrà poco La squadra medica è sul posto, pronta a intervenire Una volta fuori La squadra medica terminerà il soggetto È servito allo scopo Sì signora Merdo Kid Chiama il tuo amico e dagli istruzioni Grazie a tutti Direi che ci siamo Kid Kid Mi hai sentito? Sì Ho sentito È insubordinazione quella che sento? Non possiamo ucciderlo Sì che possiamo E lo faremo Una volta tornato nel mondo reale Sarà una minaccia Ora Chiamalo e digli dov'è il punto di estrazione Lo sai Kid Ha firmato la sua condanna nel momento in cui è entrato nell'ostello Ora Esegui gli ordini O anche tu firmerai la tua No È un vero peccato che tu ci abbia tradito Avevo fiducia in ti No oh ottiamine ok questa cos'è l'improvviso diamine sul serio oh mio dio ma che deve essere di sopra nella sua stanza oh diamine no dai ci vogliono uccidere caspita un attimino questa è aperta ok ok andiamo subito nella stanza Lily la mia dolce bambina papà sono io Lily sono qui sei davvero tu si sono io ti riporterò a casa non siamo già a casa no tesoro ma lo saremo presto sono stanca torna a dormire al tuo risveglio sarai al sicuro ma 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 l'ho trovata presto andiamocene da qui mi dispiace Sebastian non posso certo che puoi porterò via tutte e due se necessario no la Mobius deve essere fermata ma fa un culo la Mobius ci hanno già fatto perdere troppo tempo dobbiamo andarcene solo noi tre in un posto dove non possono trovarci quel posto non esiste loro sono dappertutto Lily sarà sempre in pericolo se io non li distruggerò e va bene aspetterò quando la Mobius sarà distrutta non funziona così Sebastian può essere fatto solo dall'interno lo stem non è soltanto questo posto tutta la Mobius è connessa attraverso i chip che hanno in testa una volta assunto il potere del nucleo trasmetterò un segnale nell'istante in cui Union collasserà un segnale che potrà distruggere la Mobius una volta per tutte ma ma siamo finalmente insieme non c'è altro modo fa tutto parte del piano sin dall'inizio mi dispiace Maira dimmi solo che ti prenderai cura di me devi raccontarle che sua madre l'amava tanto Maira vorrei dirti tante cose tu non devi dire niente ti ho osservato per tutto questo tempo so quanto hai sofferto quello che ti hanno fatto che io ti ho fatto non hai colpa per ciò che è successo e sei stato all'inferno due volte per questo è giusto che te ne vada ora vivi la vita che ti è stata strappata ti amo Maira vi amo anche io tutti e due lo sto facendo per voi ma non c'è più tempo dovete andare ora ma non c'è più tempo non c'è più tempo che è stato Allarme, allarme, emergenza al fondo Allarme, allarme, emergenza al fondo Uffa però, io davvero Mi metto a piangere tra poco Uccidetevi Non è così facile Deve raggiungere la stanza dello stand Al piano di sotto Personale di sicurezza Rapporto nella stanza dello stand Esisti, Sebastian Non potete prima farmi piangere E poi farmi tornare così All'azione di punto in bianco Oddio Razza di mostro Cosa credi di fare? In questo modo firmi la tua condanna a morte Lo dovresti sapere Avevi grandi capacità Potevi diventare incredibilmente potente E invece hai deciso di gettare via tutto Perché? Dopo quello che hai visto Dopo quello che hai fatto Perché questa crisi di coscienza adesso? È per il detective? Per la bambina? No È per me Pensa a quello che fai, kid Lo stem è necessario, immagina Una coscienza condivisa da tutto il genere umano Niente più guerre Niente più disparità Niente più dolore Non si torna più indietro Spero avessi ragione, Naira Sebastia Kidman Lily è con me Dove vado? Nella tua stanza Ok Ma Naira rimarrà qui Tu lo sai perché Ok Non abbiamo molto tempo Conto solo di te, Kidman Maledizione Ok Però direi Non temere, Lily Ci siamo quasi D'accordo Arriveremo al rifugio nel prossimo video Ciao a tutti